Con la vice sindaco e assessora alla cultura Manuela Maffioli, edizione davvero straordinaria di Miniart Textile con due grandi opere del maestro Pistoletto. Sì, e una serie di eventi anche collaterali in molte sedi private, tra cui alcune aziende tessili e studi professionali privati. Tutto questo fa MyFiber, percorsi di arte e tessile tra tradizione e sostenibilità. Busso Arsizio recupera il suo DNA tessile, lo recupera pienamente, diciamo, perché questo processo in realtà non si è mai interrotto. Oggi è a pieno titolo, torna a capitale del tessile, sia sotto il profilo, non solo sotto il profilo economico, ma anche sotto quello culturale, grazie alla Fiber Art. Il maestro Pistoletto ci aiuta a guardare anche al futuro. Il futuro parla anche il linguaggio della sostenibilità, che con buon senso e con senso di responsabilità accompagna o dovrebbe accompagnare ciascuno di noi, dai privati alle aziende a tutti coloro che hanno a cuore la salute del pianeta, per cui immagino tutti. Qui siamo appunto al Museo del Tessile, ma sappiamo che è un evento diffuso in tutta la città, che coinvolge tutta la città. Come piace a noi fare la cultura, farla permeare. La città è permeata di cultura, di eventi in date molto diverse. Le mostre ai musei, comprese le installazioni del maestro Pistoletto, saranno visitabili fino al 2 di giugno, mentre ci sono date diverse per tutti gli altri eventi collaterali. Si trovano sul sito del Comune, sui pieghevoli, su tutto il materiale di comunicazione.